Secondo lei, c'è ancora speranza per il mondo? No. Hai letto il messaggio? Allora, il funerale è alle 7, tu hai lasciato l'indirizzo dietro al biglietto. Ok. Ma tutto bene? No, che stamattina mi sono svegliato con un fischio. Dalle orecchie. Io non sento niente. Le orecchie presentano la maggiore incidenza di infezioni, soprattutto in età infantile. Ah! Lei ha figli. No. Lavora con bambini. Faccio il supplente in un liceo. Quelli non sono bambini. Mamma! Puoi iniziare col dirmi questo chi è? Nicolai è un artista. Io direi che... Assemblo emozioni. Amici o parenti con bambini piccoli? Qualcuno, sì. Ed è solito prenderli in braccio, toccarli, strofinarsi con loro? Il funerale doveva essere la mattina, ma... Scaraface. Ma c'entinaia. Te lo ricordi un certo Luigi? È un amico suo? Non lo so. Comunque è morto. La maletta alla Bibbia, obiettivamente. Ci sono delle parti che quando ogni tanto la leggo, per usare un eufemismo, non significano proprio un cazzo. Lei non sarà amica di quelli che vivono fuori dal proprio tempo? Non sei una persona facile, lo sai. Il professore è in casa? Mio marito stravedeva per te e anch'io. Pensavamo tutti e due che fossi un genio. Evidentemente ci eravamo sbagliati. La 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 È un genio. È un genio.